eccoci qua buongiorno ben ritrovato a michele putrino con me ciao michele ciao beatrice buongiorno allora naturalmente siamo sempre nel trend post elettorale no di questa domenica 25 settembre che ha lasciato sicuramente molti basiti soprattutto magari alcune situazioni non ce le aspettavamo altre cose invece sono state confermate cioè la vittoria del centrodestra confermata ma probabilmente la gente si aspettava che ci fosse meno astensionismo e soprattutto forse una maggiore visibilità per tutti quelli che si sono dati molto da fare e sono entrati come protagonisti all'interno dei partiti del dissenso qual è il tuo pensiero a riguardo io sinceramente ho visto andare le cose come immaginavo come era abbastanza convinto che le cose sarebbero andate così e ne abbiamo parlato delle volte anche con te come sai un po anche in privato e la quello scritto delle volte anche pubblicamente perché perché guardando l'andamento della situazione era abbastanza ovvio che le masse no il popolo vista la situazione attuale tende ad andare a destra cioè proprio la destra cosiddetta tradizionale la destra che rappresenta i cosiddetti valori tradizionali il concetto anche di disciplina di ordine di rimettere le cose a posto di mettiamola così quella destra che di solito prende in pugno la situazione no il motivo a mio parere abbastanza abbastanza ovvio perché in questi ultimi anni c'è stata una tendenza in maniera estrema verso il cosiddetto politicamente corretto progressismo in maniera folle vediamo una totale distruzione del concetto di famiglia di valori più tradizionali rasi completamente al suolo comunque hanno provato a farlo a livello mondiale ed è naturale che ad un certo punto c'è una reazione no una reazione di rigetto da parte delle 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 persone in generale ne consegue che vada se che uno va a votare chi rappresenta un po una soluzione no un tentativo di mettere un argine a tutta questa situazione di rimettere le cose opposto quindi una visione completamente opposta a quello che è stato presente finora questo si vede anche addirittura nei commenti sotto le interviste o i dibattiti che ci sono in queste ore nel tv nelle grandi tv americane inglesi oppure dei siti internet che vanno molto per la maggiore che si occupano di politica e che stanno parlando dell'italia e di fratelli d'italia di giorgia meloni e sotto io sono andato a guardare i commenti e ho visto che proprio anche la gente all'estero vede giorgia meloni discorsi di fratelli d'italia perché loro riprendono i pezzi no del delle delle dichiarazioni della meloni e tutti dicono all'estero che questo quello che vogliono anche loro ovviamente la parte no che non accetta il politicamente corretto e che non si riconosce nel progressismo quindi a mio parere è andata esattamente come uno poteva immaginare questa cosa ha a che fare poi con quello che è successo negli ultimi due anni a mio parere non moltissimo perché la gente tende a dimenticare facilmente se avete fatto una chiacchierata in giro tranne le persone che hanno seguito con con calore no e che diciamo ricordano bene tutto quello che è successo e che hanno seguito con con attenzione che parte grossa parte anche buona parte anche del tuo pubblico che è molto sensibile a certi a certi temi ebbene se andate invece a guardare nella popolazione generale ebbene anche coloro che hanno subito eh i famosi 7 milioni di persone che in qualche modo hanno subito in maniera pesante tutta questa situazione ebbene non è stato argomento di questione politica nemmeno per queste queste questi 7 milioni di persone per il grosso no il grosso ha identificato il suo voto con ciò che vuole vedere in futuro come governo quindi un governo che riporti nella sua mente nella sua visione dell'ordine nella nazione e riporti i valori tradizionali a cui tutti si ancorano ecco questa è la visione sì perché di base la gente soprattutto diciamo che magari ehm non so si è vista perdere il posto di lavoro gente che è stata sospesa gente che ha frequentato le piazze che ha manifestato eh è sempre stata convinta di numeri abbastanza elevati e quindi si faceva il conto di quanti italiani in realtà fossero diciamo in questa situazione e venivano fuori dei numeri tipo il 30 per cento e quindi sono veramente tanti poi questa cifra si è progressivamente abbassata però già anche parlare eh ricorderai di 15 milioni di persone che comunque la pensavano tutti nello stesso modo faceva pensare e sperare eh diciamo i partiti del dissenso che i risultati sarebbero stati completamente diversi cosa che non è stata invece in realtà eh ma questo è un errore classico tu sai che io tendo a cercare di analizzare queste cose sempre nel modo più crudo no e nel maniera meno ideologica possibile ovvio anch'io le mie idee come le abbiamo tutti però quando si analizzano le cose quando si osserva la realtà a mio parere bisogna essere il quanto più oggettivi possibile al di là delle proprie convinzioni e se si guarda l'essere umano in generale la maggior parte delle persone non guarda mai il mondo eh in prospettiva futuro in base a quello che è successo in passato ma sempre nel presente quindi se prima è successo tutto quello che è successo oggi nel test delle persone siamo in un'altra realtà in molti pensano che poi eh i famosi 7 milioni in media di persone che hanno avuto eh problemi nella società siano quelli che poi non sono andati a votare no che rientrano all'interno del eh del range dell'astensionismo ebbene questo purtroppo è un altro errore perché uno dice guardate che numeri enormi no verso eh l'astensionismo che ci sono che c'è quanto è stato grande dell'astensionismo in questo caso in queste lezioni ebbene questo è un altro errore perché eh è una cosa che io osservo da anni per curiosità mia eh e allora questa volta invece torna utile eh per cercare di fare eh di portare un po' di luce su questo. Ognuno ha le sue curiosità no Michele? Sì. Ma ma sai ho qualcosa che mi ha sempre incuriosito a livello antropologico perché se andate a guardare i grafici ogni elezione c'è sempre un calo sempre un calo ma significativo palesemente soprattutto dagli anni settanta in poi inizia un calo eh sempre più forte e eh questa cosa è studiata da tempo dai dagli esperti di statistica dagli studiosi e ognuno attribuisce un perché in realtà come si può vedere poi dal grafico è abbastanza in trend la situazione che è successa in questa in questo caso e perché perché dicono gli esperti uno dei motivi tra i vari uno dei motivi è il ricambio generazionale ogni volta che c'è una nuova generazione la nuova generazione cresciuta nel benessere tende a non avere interesse per la politica quindi proprio un è completamente disinteressata poi magari giustificano questo questo loro disinteresse dicendo sì ma tanto non cambia nulla ma in realtà il vero motivo è proprio perché non gliene frega niente quindi viene giustificata in quel modo ma non gliene frega niente pensate un ragazzo di 18 19 anni di oggi di 20 anni è palese che non non ha molto interesse per la politica e infatti dove era alta eh l'affluenza alle urnie subito dopo la seconda guerra mondiale anni 50 anni 60 cioè persone che avevano sofferto e che sapevano conoscevano il valore della politica cosa vuol dire mandare al governo alcune persone di conseguenza anche il giovane tendeva ad andare a votare con gli anni 70 in poi con l'inizio sempre del benessere con la nascita del con la crescita del benessere anche per i giovani e così via e soprattutto dopo la fine no del famoso periodo pesante degli anni 70 anche del che c'è stato in italia inizia proprio un calo pesante la questo per quanto riguarda l'italia la cosa particolare è che vale questo trend al ribasso vale per tutto il mondo c'è un altro grafico molto curioso in cui è possibile vedere che addirittura comparando anche i paesi dove è obbligatorio andare a votare pensate un po' nel mondo ci sono anche nazioni dove è necessario andare a votare il trend è simile quindi c'è proprio una tendenza all'interesse al disinteresse mondiale verso la politica quello che è successo in questo caso è questo di nuovo si segue il trend se poi aggiungete come hanno detto alcuni esperti anche quest'estate prima mesi prima di tutta la anche la cioè dall'inizio dal momento in cui si è saputo che si doveva andare a votare poi a settembre ebbene tutti quanti hanno confermato il fatto dicevano guardate che in estate la gente non ha interesse nemmeno ad informarsi no dicevano pure alcuni psicologi e psichiatri quindi è ovvio che poi non andrai con entusiasmo a votare è assolutamente ovvio in più a settembre buona parte dell'italia tende a essere ancora bel tempo quindi la gente tende andare a fare la famosa gita fuori porta e se quindi aggiungiamo questo al trend alla situazione tutto l'ambaradan che abbiamo descritto finora è assolutamente ovvio il risultato anzi ti dirò una cosa io leggevo quest'estate i commenti di questi esperti e davano tutti in un astensionismo tra almeno il 35 per cento al 45 per cento quindi paradossalmente siamo andati anche bene rispetto alle aspettative che c'erano nei riguardi degli esperti e purtroppo questa è la situazione in questo trend al ribasso c'è chi si è astenuto per protesta certamente ovvio che c'è ma purtroppo è una piccolissima parte irrilevante parliamo magari non so ad occhio 100.000 persone 200.000 persone 500.000 persone sono già numeri alti e sono del tutto troppo piccoli rispetto al numero significativo ecco perché anche i politici non si preoccupano minimamente conoscono il trend conoscono la situazione e sanno come va sì ma infatti sì cioè il discorso dell'astensionismo che forse molti hanno riportato no come appunto protesta nei confronti del governo precedente o comunque di coloro che dicono è inutile andare a votare tanto le cose non cambiano perché no dicevamo che il mood è un contesto di quello che si sente dire però allo stesso tempo è inutile non votare perché tanto le cose non cambiano quindi in realtà l'astensionismo non serve né all'una né all'altra parte ma si tende a farlo valere come una protesta sociale come una protesta che investe tantissime persone nell'ambito di quella che vorrebbe essere una consapevolezza una presa di coscienza di dove sta andando la società il problema è che l'astensionismo dovrebbe essere praticato in massa da moltissime persone cioè ci dovrebbe essere una percentuale di astensione talmente tanto elevata che alla fine chi si presenta dice com'è che a votare non ci viene nessuno ma non mi pare che arriveremo mai a questa situazione qui non so che è impossibile perché c'è sempre qualcuno che ha un determinato tipo di interesse sia ideologico pratico affinché un determinato gruppo di potere o di politica comunque vada avanti bene grazie per essere stato con me saluto e ringrazio michele putrino ciao beatrice grazie a te segui il mio canale youtube e il blog sul sito fabbrica della comunicazione anche su telegram iscriviti alla newsletter per non perdere tutti gli aggiornamenti ti aspetto con le mie interviste su davvero punto tv e tutti i giorni su focus radio grazie a te segui il mio canale grazie a te segui il mio canale